Sante, non volevo provocarti o mettere in giù il tuo matrimonio. Mi sembra solo che i tuoi pensieri non siano ancora allineati ai tuoi istinti, e ne so qualcosa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non appena usciremo di qui ti lascerò in pace. Potrai decidere con calma se sei pronto per ciò che comporta creare quest'arma e usarla. Grazie a tutti. 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 Sento che qui c'è il tuo nome, sai? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.